Il centriere pubblico può accomodarsi in sala. Fa per iniziare la performance, fa per iniziare la performance in sala. Ma non potrai fare nient'altro che soffrire e morire. Noi siamo i gemelli, noi siamo indivisibili, noi siamo il buono e il cattivo, noi siamo nati. Che è per quelli che le chiamano le puzzette. L'Uni le fa fredde o calde? Quelle calde usano, quelle fredde no. Il mio papà le puzzette le deve fare per forza, se no gli scoppiano i diverticoli e muore. L'Uni le fa fredde. 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 L'Uni le fa fredde.